Un aiuto d'amore. E dai, e dai, e dai, sin da piccola ho sempre preso cotte per tutti, dagli insegnanti a mio padre, a mio fratello. Da grande prendevo cotte per chi mi sembrava migliore di me, che erano quasi tutti, o mi dava attenzione, o mi sorrideva, insomma, a tutti. Sì, perché? Commento. Perché ad ognuna di queste persone hai chiesto un aiuto d'amore. Infatti, in molte vite precedenti, molti ti hanno chiesto amore, e tu non glielo hai mai dato. Quando eri donna, e quando eri uomo. Grazie. 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 Grazie.